Che partita ragazzi, che partita, che partita Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Una partita pazzesca, quella giocata all'Emery Stadium Il derby di North London Mamma mamma ragazzi, che partita La più bella dell'anno per adesso, la più bella dell'anno Ha vinto tutto sta partita, ha vinto tutto Un derby clamoroso dalle 6 gol Ragazzi, uno spettacolo, uno spettacolo Calcio inglese rimane, secondo me, una spanna sopra Veramente tutti gli altri campionati Ma anche, cioè, vedere una partita del calcio della Serie A Una partita della Premier Che differenza, che differenza Ma parliamo della partita Arsenal batte Tottenham 4-2 Veramente una partita clamorosa Da segnare i migliori in campo A chi ragazzi, a chi Ma sarebbero troppi migliori in campo Ma lo do ad Aubameyang Che veramente ha fatto Quello, un gesto tecnico pazzesco Sul pareggio del 2-2 Un gol a giro clamoroso Dove gli olisi ha potuto solamente guardarla Perché veramente un tiro così Non se ne vedevano da tanto tempo Ma una partita veramente caratterizzata Da ritmi veramente fortissimi Occasioni da una parte e dall'altra in continuo Mamma mamma ragazzi Che partita, che partita La più bella, la più bella dell'anno Adesso ve la racconto brevemente Brevemente, allora L'Arsenal che parte veramente molto molto forte Va in vantaggio Con Aubameyang su calcio di rigore E un buon calcio di rigore spiazzato Io Riss Ma il Tottenham Non ci sta E con Eric Dier pareggia la partita Anche Rissa in campo Tra Arsenal e Tottenham Perché ragazzi Questo è un derby veramente storico È il vero derby di Londra Il derby di Nord London E allora Si scaldano comunque Gli animi in campo Il Tottenham come abbiamo detto Pareggia con Eric Dier Il centrocabista inglese E pareggia E va in 4 minuti Riesce sia a pareggiare Che andare in vantaggio Con il suo bomber E con Eric Kane Che su calcio di rigore Batte Leno Per il nuovo e primo vantaggio Del Tottenham Tottenham che chiude avanti Il primo tempo E con gli episodi Perché veramente Un tiro e un gol E un rigore e un gol Quindi veramente Gli episodi hanno caratterizzato Questa partita Il Tottenham va avanti Ma poi l'Arsenal torna in campo E fa un gioco Clamoroso nel secondo tempo Non fa vedere la palla Al Tottenham Che ha delle occasioni Ma è per Per il merito dell'Arsenal Che se le creano Perché sono eroi della difesa E Son Soprattutto ha un'occasione clamorosa Davanti all'Eno Che fa una bella parata Ma poi l'Arsenal Ragazzi è un giocatore Dal centro campo Che si chiama Lucas Torreira Sì L'ex Sampdoria Che è un playmaker Ragazzi Un regista clamoroso Cioè un regista Ragazzi così Io non lo so L'Arsenal ragazzi Questo giocatore qui Acquistato quest'estate Dalla Sampdoria Per 30 milioni È pazzesco Cioè Ragazzi oggi ha giocato Una parita Lasciate stare il gol Che è una ciliegina Sulla torta Ma ha fatto veramente Una prestazione clamorosa Pareggia come abbiamo detto All'inizio del video Con Abomeyang Il gol Forse Per adesso Più bello della stagione Un tiro a giro Clamoroso Dove Io l'ispo Solamente guardare Va avanti Con il Gol Dell'ex Lyon All'accante francese L'HZ Anche il suo Bel gol Però Deviato da Dyer Che veramente Spiazza Lloris Che non ci può arrivare Ed è il 3-2 Poi La firma finale Del forse Del migliore in campo Mi sento di dire Anche se Abomeyang Ha fatto una doppietta Lucas Torreina Che chiude il punto Sul 4-2 Adesso la classifica Vede l'Arsenal L'Arsenal Che prende Il Tottenham A 30 punti Lo scaval Che è in classifica Per la differenza Dello scontro diretto È a meno 1 dal Chelsea E per questo momento È a meno 4 dal Liverpool Che in questo momento La sto guardando adesso In diretta Sta facendo 0-0 Nell'altro derby Nel derby di Liverpool Tra Liverpool Ed Everton Una giornata di derby Clamorosi In Premier League Veramente un campionato Fantastico Fantastico Mi sono divertito un sacco A vedere il derby di Londra Una partita veramente bellissima Che finisce 4-2 all'Emerits Per l'Arsenal Che Diciamo Dà una lezione Di calcio Ai cugini Del Tottenham Finisce 4-2 E finisce Anche questa reaction E per questo video è tutto Quindi Vi ringrazio per l'attenzione Lasciate un like al video Iscrivetevi al canale E seguitemi Su Facebook e Instagram Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti